Ben ritrovati a tutti gli utenti del CUS Roma Tor Vergata per questo nuovo appuntamento con la rubrica CUS Informa Torniamo a parlare di pallavolo, di volley perché abbiamo già avuto qui, in realtà lì nella sua abitazione perché l'emergenza coronavirus ci spinge a questo però ha partecipato a questa striscia quotidiana di informazione sportiva Claudio Vitale che è il referente della pallavolo oggi andiamo in collegamento invece con Gianluca Micozzi che è l'allenatore del gruppo Open Ciao Andrea, ciao a tutti Allora, tu abbiamo detto sei l'allenatore, quindi colui che cura il corpo ma anche la mente ne sono sicuro del composito gruppo Open amatoriale del CUS Tor Vergata in realtà andiamo a spiegare bene di che gruppo si tratta perché è un gruppo numeroso Sì, diciamo che allora l'idea da quest'anno è parte dall'idea in collaborazione appunto con il CUS di fare attività universitari e questa attività fondamentalmente prevede che cosa? Prevede comunque sia gli appassionati di pallavolo coloro che magari non hanno mai avuto possibilità di praticare questo sport Ti posso dare sostanzialmente un consiglio Gianluca, altrimenti non ti vedono benissimo coloro che vedranno la trasmissione Sì Posso passati leggermente un po' più indietro perché sennò ti vedi tagliato Così? Perfetto, ottimo Ok, riprendo Sì Allora, diciamo che l'attività ecco prevede per gli appassionati di volley che magari non hanno avuto possibilità in passato di fare diciamo giovanili o comunque sia di praticare questa pratica sportiva di farla in maniera diciamo più blanda attraverso comunque un discorso amatoriale ma comunque curato nell'aspetto tecnico alla perfezione e non solo ma anche nella parte diciamo fisica perché la parte fisica innanzitutto migliora la performance ma soprattutto previene e in ogni diciamo pratica sportiva ce n'è bisogno Attualmente diciamo siamo partiti con Claudio cui dirigente della parte pallavolo che abbiamo trovato diciamo un accordo una sintonia diciamo piena siamo partiti diciamo con strafacendo da 10 persone all'inizio ad oggi abbiamo quasi 20 tesserati 19-20 se non sbaglio quindi diciamo con questi mesi di pratica siamo riusciti a coinvolgerli a fare un ottimo lavoro Quindi sostanzialmente si tratta di un avvio alla pallavolo come funziona proprio l'allenamento? Mettiamoci nei panni di chi insomma volesse iniziare a praticare con il curso Roma d'Orbergata Diciamo che quest'anno abbiamo previsto un allenamento a settimana Ci siamo dati appuntamento il lunedì dalle ore 19 alle ore 20 e 30 L'allenamento fondamentalmente funziona in questa maniera C'è la prima parte che è relativa alla parte di prevenzione e parte diciamo fisica a corpo libero Che comunque sia come dicevo prima aiuta tanto nella performance nel migliorarci Dopodiché abbiamo un aspetto diciamo tecnico che va all'incirca sui 40 minuti Quindi andiamo ad approfondire le parti diciamo sia analitiche diciamo di ogni singolo fondamentale Per poi riportarli in esercizietti sintetici e arriviamo nel globale Che è la parte di gioco finale dove andiamo a focalizzare diciamo degli obiettivi legati a quello che abbiamo fatto nella giornata Quindi il percorso di crescita fondamentalmente avviene in questa maniera Ovviamente i tempi dato che comunque sia c'è un allenamento a settimana Diciamo la ripartizione avviene un po' più a lungo termine Però diciamo che comunque i ragazzi hanno fatto dei miglioramenti L'hanno anche applicati su amichevoli che comunque abbiamo fatto con diverse squadre E abbiamo partecipato anche ad un torneo organizzato dal Curso Roma Dove i ragazzi hanno comunque riportato degli ottimi risultati E prima che comunque si interrompesse l'attività per il coronavirus Si dovevano disputare comunque le fasi finali in cui i ragazzi comunque erano rientrati Ovviamente la speranza poi è Parleremo anche del mese di maggio E che però si riesca a riprendere qualcosina Anche magari Ovviamente secondo le indicazioni del governo In questo caso magari perché no finire questo torneo Domanda forse banale Ovviamente il comparto amatoriale è composto sia da ragazzi che da ragazze Da studenti Sì Siamo vivendo un momento particolare però Che è questo di appunto emergenza coronavirus Costituzione di attività fisica Tu però sei rimasto in contatto con i tuoi atleti Con i tuoi allievi Sì assolutamente sì Anche perché come dicevi nella parte iniziale La pallavolo è uno sport di integrazione Bisogna curare aspetti tecnici e mentali Quindi fondamentalmente diciamo come professionista di questo sport Reputo essenziale l'interazione a 360 gradi Quindi oltre che avere un rapporto di allenatore Atleta con dirigente È importante comunque interagire in qualsiasi momento E quindi sicuramente la parte di interazione c'è stata C'è E anzi I ragazzi siamo presenti dicendo Stiamo facendo parte fisica Stiamo facendo qualcosina E stiamo avviando anche un discorso diciamo Prettamente teorico Fondamentalmente Ci è lanciata l'idea Magari a distanza con delle diciamo Videochiamate Per diciamo andare a curare degli aspetti Diciamo teorici Che in palestra per forza di cose Non possiamo fare Per questioni di tempo Per materiale Magari ecco Potrebbe essere una buona idea L'ho appena lanciata questa cosa per i ragazzi Vediamo diciamo che di svilupparla nei prossimi giorni E a tal proposito Bisogna anche giocarci un po' su In questa situazione d'emergenza E tu sei stato Ti sei reso protagonista Di una delle challenge Che sono state poi pubblicate Sui profili Facebook e Instagram Cambiandremo di recuperarla anche durante questa intervista Giochicchiando un po' con la palla a volo Sì 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 Beh io penso che sia fondamentale In un momento diciamo Oltre che diciamo Drammatico in un certo senso Perché cambiare Le abitudini E gli stili di vita di ognuno di noi Nel giorno d'oggi Credo che sia Sia molto difficile E magari renderla sia simpatica Attraverso diciamo Un consiglio Di restare a casa Di poter fare una pratica Diciamo a casa Per chi ha un pallone Oppure Con la parte fisica Corpo libero Con qualsiasi altra cosa Che ci possa portare Nel Diciamo Nel ripensare Agli allenamenti Che abbiamo fatto in palestra Quindi è la cosa E poi diciamo Che anche Appunto la tecnologia Come sta aiutando il CUS A mantenere un po' di attività Quindi parlando con voi Referenti allenatori Che siete poi La colonna portante Ovviamente Delle CUS Aiuta anche L'interazione Con gli allievi Si riesce a parlare A distanza Non è la stessa cosa Ovviamente Però Perlomeno C'è la tecnologia Che un pochettino Ci aiuta a superare Questo Momento tragico Noi però Visto che ci avviamo Verso la fine dell'intervista Siamo Ottimisti di natura E quindi Possiamo già dire Agli allievi Ma a tutti gli studenti L'università di Tor Vergata Che stiamo Lavorando A qualcosa Per Riabbracciarci Prima che finisca l'estate Se ce lo permettono Giusto? Assolutamente Sì In cantiere Definiamolo cantiere Perché comunque sia Oltre che essere Diciamo Come denominazione Un torneo Secondo me Un vero e proprio evento Stiamo cercando Comunque sia Di costruire qualcosa Che porti Alla fine di questa epidemia Si spera Nel breve tempo possibile Una sorta Diciamo Di torneo Che permetta Comunque sia La partecipazione Agli atleti Sia della parte Open Sia della parte Di CNU Sia Degli studenti Di Tor Vergata Per qualsiasi persona Che voglia affacciarsi Nella realtà Della pallavolo Iniziamo Ricostruire Questa specie Di evento Che Definirei La giornata Sportiva Pallavolistica Del Custor Vergata Ecco Non voglio anticipare Nulla Bravo Li rimando Su questa definizione Grazie a tutti